Dare un'occhiata ai giornali e un buon inizio di giornata, quindi vi auguro una buona giornata. Oggi è venerdì 9 giugno 2023 e questa è la rassegna stampa di Fano TV. Diamo subito un'occhiata all'almanacco del giorno, vediamo chi si festeggia oggi. Vediamo che un santo siriaco, un santo mesopotamico, è nato nel 306, nella mezzaluna fertile, si tratta di Sant'Efrem. Nacque nel 306, così come abbiamo detto, fu maestro di sacra scrittura e durante la sua vita, si dice, fece un bene immenso. Consolò il popolo durante l'invasione degli Unni e fu un grande pacificatore, forse di Sant'Efrem. Ci sarebbe bisogno ancora oggi. Vediamo le previsioni del tempo. Ecco la grafica, vediamo un po' di sole e un po' di nuvole. Inizialmente il tempo sarà solleggiato su tutta la regione e poi dal pomeriggio ci sarà un po' di variabilità, qualche pioggia tra l'Appennino e la costa, soprattutto per quanto riguarda il Maceratese, l'Ascolano e il Fermano. I venti sulle coste ispireranno da una direzione di ovest e sud-ovest, mentre nell'interno da nord-nordeste. Le temperature oscillano dai 18 ai 25 gradi, si sono elevate rispetto a ieri, mentre il mare è leggermente mosso. A questo punto la previsione del tempo sarà una giornata ancora calda, siamo ormai vicini all'estate, e quindi la temperatura si sta assestando. Speriamo che non arrivano improvvise bombe d'acqua, come ormai accade spesso. Ed ora, apriamo il giornale oggi per primo, il Corriere Adriatico, sulla pagina di Fano. Vediamo che l'apertura è dedicata a un grande progetto che si presta a realizzare l'amministrazione comunale di Fano. Sono due steppe, due gradini, due fasce. Si tratta del waterfront, una rivoluzione estetica, ma anche funzionale, di parte della Sassonia e di parte di Torrette. Waterfront corsa contro il tempo, no al cantiere nel cuore dell'estate. È stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta il progetto definitivo per due milioni e mezzo per quanto riguarda la ristrutturazione della zona intorno all'anfiteatro Rastat di Sassonia e di un milione e mezzo per quanto riguarda invece i giardini centrali di Torrette. Verranno completamente rivisti, quindi ci sarà una nuova estetica e anche una nuova funzionalità. Insomma, cambierà completamente il paesaggio. Ci sono delle date precise perché entrambi i progetti godono dei finanziamenti del PNRR che, come sapete, vuole delle scadenze che non sono oltrepassabili. Vediamo un attimo. Il 30 luglio prossimo ci sarà per forza l'affidamento dei lavori. Comunque i lavori non cominceranno durante agosto, ovviamente, è la stagione turistica. Si dice anche qui nel titolo, no al cantiere dell'estate, inizieranno nel mese di settembre. Ma entro il 30 settembre, però, dell'anno prossimo, non di quest'anno, dovrà essere realizzato almeno il 30% delle opere. E poi, invece, entro il 31 marzo del 2026, ma siamo ormai così molto lontano, dovrà essere concluso il tutto. E qua, nella foto, vediamo un rendering per quanto riguarda il progetto nella zona di Sassonia. Tutta la zona di Sassonia sarà trasformata in un grande parco. Alberi, camminamenti pedonali e ciclabili, ovviamente le macchine sono escluse e quindi cambierà completamente il volto. E poi vediamo altri provvedimenti che annuncia il Corriere Adriatico. Quattro scommesse di seri, si gioca a 6 milioni di euro. E tra queste c'è la riqualificazione di Piazza Andrea Costa, il recupero della zona ex Agip. E poi altri progetti, come Viale Battisti, insomma, abbiamo il parco dell'aeroporto. Sono tutti progetti che stanno un po' cambiando il volto di fan. E poi ieri la Giunta che cosa ha fatto? La Giunta ha preso in esame la situazione che si è creata in Piazza Andrea Costa. Mi sbaglio, scusate, in Piazza Amendola, a Lido. Per quanto riguarda l'ultimo temporale che ha allagato di nuovo tutta l'area della piazza, la vasca di accumulo del Lido, un nuovo pozzetto centrale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la Giunta ha analizzato quanto è avvenuto e si accorta che la vasca che è stata realizzata sotto alla superficie della piazza non ha ricevuto nei tempi giusti l'acqua che è piovuta. E allora bisogna ancora porre dei correttivi, ovvero realizzare nuove grate di accumulo di ricevimento, in modo che l'acqua caduta possa subito andare nella vasca e quindi poi con le pompe essere spinta verso il porto canale nella zona di via dello squero. Dovrebbe questo velocizzare l'afflusso dell'acqua piovana a lavori entro qualche settimana. Comunque l'impianto, a quanto hanno assicurato il sindaco Massimo Seri e l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, insieme al dirigente dei lavori pubblici Federico Fabri, l'impianto funziona, è efficiente. Si tratta soltanto di metterlo a regime, secondo le eccezionali bombe d'acqua che stanno verificandosi nel nostro territorio recentemente. E poi a fondo pagina si parla di passaggi festival. Il Comune taglia il contributo. Anno scorso erano 120 mila euro, quest'anno si passa a 80 mila. e poi ci sono anche i contributi per le altre manifestazioni più importanti, come quelle del Carnevale, che arriva a 130 mila euro, e come quella al Festival Jets, che arriva a 120 mila. E poi abbiamo anche 80 mila euro a favore della Proloco, e circa 28 mila euro per il coro internazionale polifonico Città di Fano, che quest'anno festeggia i 50 anni di attività. E a proposito del coro polifonico malatestiano che organizza l'incontro internazionale Città di Fano, vediamo che ci sarà un grande concerto, un mega concerto, la prossima domenica, per festeggiare il cinquantesimo, un concorso, un concorso a cui hanno partecipato 21 corali che provengono da tutte le regioni italiane. Sarà veramente una full immersion nel canto corale della storia, della musica, e vedremo chi vincerà questa grande iniziativa che si svolge all'interno della Pinacoteca di San Domenico. Ed ora vediamo ancora iniziative di protesta per quanto riguarda l'ampliamento del sottopasso di Viale Cairoli, già fatto oggetto di un sit-in nei giorni scorsi. Ebbene, l'iniziativa di protesta non ha riscosso una risposta convincente, secondo gli ambientalisti, da parte dell'amministrazione comunale, e allora la cosa si ripete. Oggi sit-in di ambientalisti e cittadini, il Comune fa orecchie da mercanti. Il Comune con le ferrovie dello Stato procede per quanto riguarda il proprio cronoprogramma e quindi tra breve dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione dell'ampliamento di questo sottopasso che dovrebbe consentire il passaggio sia dei disabili che dei ciclisti senza scendere dalla bicicletta. E poi siamo a Pergola. A Pergola verranno dati nuovi contributi per un'autonoma sistemazione. La sindaca di Pergola, Simona Guidarelli, fa chiarezza su diverse questioni legate all'uluvione che ha colpito gravamente la città lo scorso settembre. Si tratta di una erogazione del contributo di autonoma sistemazione che servirà per la sistemazione del Ponte delle Tinte e la riqualificazione dello storico quartiere. E poi ci sarà una nuova assemblea pubblica. E anche a Marotta le ferrovie dello Stato hanno fatto un controllo sullo stato di manutenzione del sottopasso di via Togliatti. È stato un controllo di routine. Al momento non sembra che si siano trovati problemi di rilievo. Stando ai primi riscontri si è trattato di un sopralluogo di routine, dicevo, e di controlli che il personale delle ferrovie dello Stato, ecco qua l'articolo, compie regolarmente sulle opere viarie e sui sottopassi di sua competenza. A questo punto vediamo qualche notizia di Pesaro sul Corriere Adriatico. Soprattutto per quanto riguarda il dibattito su musica, sì, musica no, durante l'estate tra albergatori e baristi, ristoratori, insomma tutti gli operatori dediti alla movida. La movida silenziata. Ma non facciamo guerra alla musica. Insomma, il solito contrasto tra chi vuole dormire e chi vuole invece vivere l'estate in maniera attiva, in maniera vivace. Il Comune prepara un provvedimento per limitare i decibel ai fasci orarie. C'è stato un incontro con i gestori di chioschi e locali della zona di Viale Trieste. Ebbene, che cosa si profila in merito? Quali saranno i provvedimenti che l'amministrazione comunale intende prendere per cercare di equilibrare le varie esigenze? Ebbene, l'ordinanza prevede un abbassamento considerevole dei volumi dei decibel rispetto alle emissioni attuali compresa tra i 55 e i 60 decibel. Nella fascia di lungomare interessata dalla domenica al giovedì entro la mezzanotte, orario entro il quale è fatto obbligo ai locali di spegnere la musica. A mezzanotte c'è il silenzio. Il venerdì e sabato l'intrattenimento musicale è consentito però fino a luna ma con la prescrizione dalla mezzanotte di ridurre in modo netto i volumi. Quindi sabato la domenica e sono i giorni più vivaci più frequentati dai ragazzi sul lungomare si può tollerare qualcosa di più ma sempre in maniera ponderata moderata. Veniamo alla cronaca. Alla cronaca vediamo che si sta concludendo il lungo iter processuale per quanto riguarda il famoso omicidio di Natale dove vittima è stato Marcello Bruzzese freddato da una scarica di proiettali davanti a casa sua in via Bovio. Era una vendetta della mafia perché il fratello era stato un testimone che aveva detto tutto quello che sapeva quindi contro la mafia. Pena massima per Tripodi e Candiloro l'esecuzione ordinata dalla drangheta pena massima vuol dire l'ergastolo l'ergastolo che è stato confermato per questi due personaggi entrambi 44 anni sono in carcere dall'ottobre del 2021 dopo le indagini compiute dai carabinieri del ROS sono state accolte dal giudice le richieste di condanna inoltrate dalla procura distrettuale antimafia perché stando all'accusa quello del 51enne bruzzese è stato un omicidio legato alla cosca dell'andrangheta crea di rizziconi paese a poca distanza da Gioia Tauro quindi veramente un delitto molto efferrato se era bisogno della discarica bello questo titolo che sancisce una dichiarazione dell'assessore regionale Stefano Aguzzi se era bisogno della discarica se la faccia a Bologna dove ha sede l'assessore regionale non fa sconti chiede a Ricci Gambini e Paolini di non fare gli gnorri e ovviamente al centro del dibattito è la discarica di Ricci e guardate il paesaggio che si verrebbe a distruggere con la discarica nei pressi di Gallo di Petriano dove dovrebbe sorgere questo accumulo di rifiuti sulla vicenda c'è anche un esposto della Repubblica della Repubblica un esposto alla Procura della Repubblica di Urbino vediamo ancora altre notizie vediamo che Villa Bucci questa bellissima Villa Liberty che è messa all'incanto ancora non trova un compratore altra asta a vuoto e il prezzo scenderà ancora non sono arrivate offerte il giudice prevede un massimo di 5 tentativi vediamo anche la pagina di Urbino l'apertura è dedicata al trasporto pubblico al trasporto urbano pubblico una sola linea per il centro e più bus intorno alle mura da Santa Lucia previste fermate in tutte le porte ogni 15 minuti si parte da lunedì prossimo nasce così ad Urbino Urbibus identificativo con UBI la sigla appunto che sottolinea che caratterizza questo nuovo servizio un servizio che partirà da Santa Lucia ogni 15 minuti girando intorno alle mura della città fermandosi in tutte le porte dalle 7.45 alle 20.15 da lunedì al sabato con un biglietto valido per 60 minuti al costo di 1,35 euro appunto a corsa e questo è quanto si profila nella città di Urbino chiediamo ora il Corriere Adriatico e guardiamo il resto del Carlino l'apertura l'apertura ha un sapore turistico ma ha un sapore turistico particolare perché a Fano esistono due spiagge dove sono ammesse anche i cani e il fatto di andare a vacanza con il proprio animale d'affezione è un servizio molto gradito ai turisti riviera a quattro zampe spiagge e hotel in Paul ma purtroppo non mancano i problemi il ripascimento su tutti un operatore avvelte se il comune non provvede perdo tutta la prima fila di ombrelloni in vacanza con il cane Fano è pet friendly ovvero ci sono due dog beach una Larzilla e l'altra Ponte Sasso e diversi hotel pronti ad ospitare i padroni con i loro amici a quattro zampe sono hotele che hanno di tutto a parte il fatto che quando uno va in vacanza si premura di avere con sé tutto lo corrente ma in caso avverso è l'operatore turistico ovvero l'albergatore che propone delle delle cucce che propone delle ciotole insomma tutto quello che serve per ospitare il cane e che generalmente il cane dorme nella stessa stanza del padrone però insomma si può andare anche il mare al mare a fare il bagno ebbene qui c'è un operatore turistico però che evidenzia qualche problema un avvio di stagione si tratta di Giovanni dal Lago titolare di Anima Lido con 30 ombrelloni in meno rispetto agli anni passati ebbene che cosa è accaduto è accaduto che non può più contare su 10 metri lineari di spiaggia libera al fianco della sua concessione quella spiaggia libera che invece era stata concessa nei momenti in cui dilagava l'epidemia da Covid inoltre dice e sempre dal Lago dobbiamo fare i conti con l'erosione marina causata dal mancato intervento sulle scogliere esistenti scogliere esistenti che ormai non reggono più la forza del mare quindi le onde le sopravanzano e vanno a erodere la battigia e quindi vengono meno metri di spiaggia una bella iniziativa che è stata presentata ieri a Fano la città si illumina di calcio arrivano i big dal 12 al 16 giugno Fano protagonista della trasmissione Sky Calcio Mercato l'originale tra gli ospiti Costa Curta Marchegiani Marocchi e Serena ebbene che cosa consiste il fatto che per una settimana una troupe con tutti gli strumenti specializzati quelli all'avanguardia della tecnologia si insedierà all'interno della chiesa di San Francesco e qui trasmetterà il calcio mercato la trasmissione su Sky molto seguita va in onda dal lunedì al venerdì dalle 23 a mezzanotte e tutti i giorni parla delle evoluzioni del calcio mercato ma parla anche della città da cui questa trasmissione viene divulgata e in questo caso Fano ha l'opportunità di mostrare le sue bellezze non solo la chiesa di San Francesco che di per sé è già una grande attrazione ma anche altre bellezze della città il Pincio con l'arco d'Augusto la Rocca Malatestiana la Corte Malatestiana il Porto il Bastione San Gallo insomma una opportunità per una promozione considerevole tanto che l'iniziativa è stata sottolineata ieri dal sindaco Massimo Seri dall'assessore al turismo Etienne Lucarelli insieme poi ai tre conduttori della trasmissione che sono rimasti veramente affascinati da Fano e poi il resto del Carlino ricorda che tra breve dal 16 al 18 giugno la fondazione Cassa di Risparmio di Fano organizzerà un incontro molto interessante intitolato Generazione Futuro ormai al Via si tratta di una serie di argomenti con un linguaggio molto adatto ai giovani si parlerà di digital di storytelling e si cercherà insomma di attivare dei personaggi che sono molto molto apprezzati soprattutto dalle giovani generazioni ricordiamocelo dal 16 al 18 giugno prossimo e poi c'è passaggio ormai ci avviciniamo alla seconda parte del mese di giugno quando poi inizierà questo grande festival che ormai ha assunto veramente una notorietà nazionale passaggi apre le porte ai bimbi anche in spiaggia ci sarà uno siparieto ma io direi invece una parte importante del festival dedicata ai bambini e alle famiglie le attività proposte adatte pensate da 0 a 18 anni sono tutte gratuite ma a numero chiuso è necessaria quindi la prenotazione da fare sul sito del festival www.passaggifestival.it per i laboratori dedicati alla fascia 0-3 anni e poi ovviamente è richiesta la presenza dei genitori si tratta degli appuntamenti curati dalla Università di Camerino leggere quest'articolo è interessante per avere un po' tutte le notizie che riguardano il festival vediamo ancora altre notizie siamo ad Urbino il arresto del Carlino ritorna sulla notizia delle individuazioni di coloro che imbrattano la città e fare questo in una città che fa parte del patrimonio dell'UNESCO è maggiormente grave imbrattatori messi alle strette dalla polizia sono state individuate 14 persone che hanno la bomboletta spray molto facile tra questi anche alcuni minorenni c'era chi vivaccava chi aveva la bomboletta tra le mani sporche ancora di vernice imbrattavano muri e bighellonavano al centro commerciale di Porta Santa Lucia ebbene sono state individuate e ovviamente non mancheranno dei provvedimenti nei loro confronti clima da campagna elettorale a Cagli già si pensa alle elezioni il consigliere comunale Stefano Polidori lancia dei precisi segnali bilancio comunale ravvivato dall'autovelox ebbene sulla Flaminia ci c'è il limite dei 70 chilometri orari ma siccome è un rettilineo spesso gli automobilisti superano questa velocità nonostante che sia ben segnalata la presenza dell'autovelox e il bilancio comunale se ne avvantaggia perché poi tutte le multe che non sono poco onerose incrementano la disponibilità dell'amministrazione comunale giriamo ancora stiamo ancora sulla stessa pagina e vediamo come a Sasso Corvaro e auditore c'è una inaugurazione con il vice sindaco Zito di una scuola con l'orto e l'anfiteatro nuova vita agli esterni della Battelli questa è appunto l'iniziativa che riguarda la scuola vediamo ora qualche notizia che riguarda Pesaro si parla anche su questo giornale della discarica di riceci discarica parte il primo esposto abbiamo detto che c'è una denuncia alla procura della Repubblica perché sono così sicuri di farla e perché hanno scelto quel socio beh Gianluca Carrabs lancia alcuni interrogativi Carrabs è un ex consigliere regionale della Sfera dei Verdi che scrive alla procura di Urbino citando l'intervista fatta al Carlino da Ambrogio Rossini proprietario del 60% della società incaricata di realizzare il progetto Violentò l'amica fuori del Malindi una notizia di cronaca condannato a 4 anni 2 mesi è un albanese 23enne di Vallefoglia lui ha sempre sostenuto che la ragazza era consenziente l'aveva l'aveva convinta ad uscire dal locale di Cattolica poi ne approfittò il rapporto in un sentiero poco lontano c'è anche da pagare una provvisionale da 50.000 euro a favore della vittima lui è accusato anche di aver picchiato un altro ragazzo quindi le sue giustificazioni non hanno convinto il giudice il quale ha ritenuto che la donna la vittima non era consenziente e quindi è stata usata violenza e poi anche il resto del Carlino evidenzia la sentenza che condanna all'ergastolo i due assassini di Marcello Bruzzese Bruzzese e ergastolo ai due sicari è un processo indiziario hanno reagito le difese gli elementi non provano in nessun modo la loro responsabilità faremo appello siamo in conclusione voglio soltanto e menzionare un altro articolo pubblicato sulla pagina di Pesaro del Carlino Baia decore protesta la rabbia dei ristoratori prima penso al lavoro poi ai colori delle sedie e c'è qui da osservare il regolamento per quanto riguarda l'estetica degli hub dei tavolini all'aperto insomma un'estetica che consiste nel decoro della città e questo per il momento è tutto io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti